Giovedì la campagna di scavi che sta portando alla luce i tesori dell'antica Quinum in Castrocello approderà a Roma nel Palazzo della Cancelleria nell'ambito di un evento dedicato all'archeologia e agli scavi del sito castrocelese. Al centro dell'appuntamento in cui sarà relatore anche il professore Ceraudo che dalla 2009 cura gli scavi ci sarà la più importante scoperta della campagna 2016, l'iscrizione lunga 9 metri scoperta dall'equip di archeologi dell'Università del Salento. L'iscrizione riporta il nome del magistrato Aquinate Marco Veccio, l'uomo che all'epoca governava Quinum e venne eletto per il secondo mandato. Fu proprio Marco Veccio a curare la costruzione delle terme sia nella sezione maschile e sia nella sezione femminile. A lui si devono anche la cripta, la palestra e gli ornamenti. Tutti elementi venuti alla luce negli ultimi otto anni, tutte realtà riportate in superficie dal lavoro del professor Ceraudo e dei suoi ragazzi e ragazze. Il fatto che poi l'evento si terrà nel Palazzo della Cancelleria, sede della Pontificia Accademia di Archeologia, è un segno dell'importanza che nel settore sta acquisendo sempre di più il lavoro fatto a Castrocello. In quel tempio si parlerà di Aquinum, ha affermato il sindaco materiale. È un bel viatico per noi tutti che ci induce a continuare.